due buonasera popolo e buonasera gruppo di eh Cosette Group Life questa sera è una serata particolare perché volevo fare un punto della situazione a che punto siamo arrivati siamo arrivati a un punto che piano piano sveleremo eh la programmazione di eh Concept Group Life che non è solo Concept Group Life ma è anche un'altra parola la parola esatta è Tenerife World allora eh questo video è per tutte le persone che non mi conoscono allora Francesco Gallori nel duemila e dieci all'apice del successo abbandonò tutto lavoro negozio clienti e si trasferì alle Canarie e precisamente a Tenerife con tutta la famiglia mia moglie eh le mie figlie il mio cane Chuck che non c'è più è stata una mascotte della parola Tenerife World World che cos'è Tenerife World? Tenerife World è un'associazione socio-culturale per l'integrazione degli italiani che e in quel periodo numerosi migravano dall'Italia perché i tempi non andavano bene e aprì un negozio di eh parruccheria a Tenerife e con la voce di Tenerife World sono riuscito a eh realizzare duecento video dove intervistavo eh persone che vivevano nella nell'isola che imprenditori persone anziane come si stava come non si stava la pensione eccetera allora adesso io sono tre anni che eh sono tornato in Italia eh sfortunatamente eh tre anni fa sono rimasto vedovo e non mi sentivo più di stare nell'isola e sono tornato in in Italia eh con la mia famiglia ho avuto la grande opportunità di accompagnare anche mia mamma la mia famiglia ho avuto 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 la mia famiglia e adesso eh distanza di eh tre anni grazie all'aiuto sembra un paradosso grazie all'aiuto del covid tutto questo eh disastro che eh ci ha creato siamo stati tre mesi in casa a meditare tante cose cosa fare cosa non fare eccetera e occupandomi di formazione da tanti anni nell'ambito dell'allungamento di capelli ho sempre portato avanti eh una formazione anche online eh già vent'anni fa già utilizzavo delle piattaforme molto complicate che le persone non erano abbastanza eh informatizzate è stato un 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 disastro i tempi sono cambiati eh il mondo è cambiato si comunica in un modo diverso quindi abbiamo perché tutto questo non è che lo faccio da solo c'ho molte persone dietro che credono in quello che io dico eh e mi aiutano tantissimo a maggior ragione questo video è per dare un una spiegazione un po' più globale allora eh se noi guardiamo un attimo così molto semplicemente possiamo guardare il video eh del portale concept eh group nel concept eh gruppo del youtube eh noi troveremo mh tante cose qui in nella nella sinistra del del portale abbiamo eh l'altro eh portale eh che si chiama Tenerife World che fa parte dell'associazione culturale che eh mia figlia Giorgia Callori eh sta gestendo già da molti anni con i corsi eh di eh formazione guardando bene sempre eh sul eh portale eh abbiamo anche eh vicino al concept group anche la Tento che è una collaborazione molto stretta con Riccardo Cristino che è stata una persona che abbiamo vissuto vari anni eh in Tenerife c'eravamo premessi che quando eh saremmo stati eh in Italia avremmo realizzato qualche cosa e abbiamo eh realizzato un t-shirt maglietta con Gaia e allora per chi fosse interessato all'acquisto eh di Gaia cliccando sul sul eh sul eh link tento shop online io adesso in diretta con voi eh vi faccio vedere eh il il portale che poi voi potrete eh visitare eh con calma eh perché non è che c'è solamente Gaia ma ci sono eh quasi centoventi eh tipologie di ehm di eh magliette. Allora io adesso sto guardando che ho cliccato però non mi appare adesso vediamo con queste nuove tecnologie vediamo un po' se riusciamo a ri eh allora cancello un attimo questa condivido lo schermo di tento così facciamo prima eccolo e in in copertina voi eh potrete trovare tutte le informazioni eh perché con l'attento abbiamo tantissime iniziative dove stiamo preparando una t-shirt eh specifica per ehm eh per eh concept group life allora proseguendo vediamo eh ok come tecnologia prima volta va bene ci abbiamo i microfoni settati ci abbiamo solamente sto coso ma è il ritorno che eh mi dà eh fastidio allora ritornando nuovamente nel portale vediamo un attimo se riesco a condividere meglio che la rete possa fare degli scherzi allora vediamo eh intanto se volete commentare qualche cosa siamo in diretta per commentare eh bisogna dare le autorizzazioni a Facebook ehm se volete farvi eh vedere la vostra fotografia e il vostro nome se no senza autorizzazioni eh potrebbe essere un commento eh che si vede il commento ma senza chi eh l'ha fatto allora ritornando al portale ehm portale concept group che questo portale è il portale dove io ho raccontato Tenerife con ehm 200 video se noi andiamo sulla playlist sulla playlist possiamo scendere e abbiamo queste due ehm queste due eh playlist sette anni a Tenerife e concept group eh live vediamo un po' che si vede perfetto poi c'è anche la diretta di Manuela che ieri sera è stata carinissima eh la sua prima diretta è riuscita a riuscita a rompere il eh il ghiaccio perché ne avrà tantissime allora eh ritornando al portale allora se noi eh clicchiamo su ehm la playlist sette anni a Tenerife adesso io clicco speriamo che eh si attualizza adesso non dovrebbe esserci la voce ma se c'è la togliamo perfetto vedo che ok allora qui eh questi video che sono un cento novanta eh vediamo un po' dovrebbero essere cento novantanove o qualcosa del genere è la mia storia di eh sette anni cento novanta sei video sono molto simpatici perché fanno parte di di un'epoca passata però è anche vero che tante persone vogliono sempre eh cambiare vita a maggior ragione adesso dopo queste grandi difficoltà eh che ci sono eh qui in Italia però io oggi questa sera volevo presentare anche il portale dell'associazione che lo potrete eh trovare sempre eh dal concept gruppo live eh vediamo un attimo se riusciamo andare indietro se no eccolo qua ancora rientriamo nella home page come lo dicono gli americani eccolo qui scattiamo eh questo e qui in basso abbiamo eh Tenerife World io adesso lo gli do una cliccatina eccolo qua perfetto che cos'è Tenerife è un insieme di eh video per scorbire la vera vita sull'isola l'inviato Francesco Gallori sul luogo di un evento per firmare l'avvenimento al quale assiste allora adesso che il mondo è cambiato e possiamo lavorare in remoto io lavorerò in remoto anche con Tenerife World ehm ci sono delle consultazioni con tantissimi amici imprenditori per intervistare anche loro eh come se la passano come va che che problematiche che che futuro eccetera per proseguire i tre anni che sono mancato a Tenerife e riprendere anche questa trasmissione eh Tenerife World che cos'è Tenerife ehm nel portale in questo momento eh potrete eh trovare tantissime cose se noi andiamo nella playlist di Tenerife World ci sono varie cartelle dal corso di spagnolo di Giorgia la mia figlia discovery Tenerife le news eh interviste che adesso che attiveremo saranno condivise sia nel sette anni a Tenerife sia eh più specificamente nelle interviste di Tenerife eh World poi abbiamo anche eh musicisti praticando PNL in Canaria è un reality show ehm per essere felici ci sono qualche video interessante c'è un bellissimo video di una finca a Loro Tava che ehm prima di partire eh volevo creare una comunità eh per vivere sempre eh una vita felice ma non è detto perché le cose sono cambiate eh si potrà riprendere un sacco di attività perché le Canarie sono bellissime e il posto ventitré tutto l'anno sarà meraviglioso allora proseguendo vediamo se ehm abbiamo bellezza e beauty ehm alle Canarie ho un'altra figlia che è Giada con la sua attività di eh parruccheria è una persona affermata anche lei da dieci anni con tanta clientela però è anche vero che gli italiani che vanno giù sono stati un grande punto eh di riferimento per tutta la famiglia per poi arrivare ad altre playlist che andremo a ad attualizzare benissimo allora ritornando a me ecco oggi una diretta nuova particolare eh non è difficile è buono l'intenzione ci sono ehm perché perché questo mondo è cambiato noi eh possiamo fare qualsiasi cosa anche eh da casa ci sono i nuovi lavori che nascono e ci sono i lavori che muoiono e sicuramente questo del comunicare un qualcosa via internet eh fa la differenza poi io spero che qualcuno commenterà come eh su eh su concept group life parliamo di moda di tendenze e creatività su eh Tenerife World parleremo degli stessi argomenti in un posto diverso le Canarie dove ci sono sette risole e ci danno l'opportunità di raccontare chi se la passa bene e chi se la passa anche male perché il mondo è uguale per tutti in qualsiasi parte tu vada eh ci sono persone che si lamentano e persone che non si lamentano bene io credo che eh oggi sto eh utilizzando la nuova tecnologia il mio microfono professionale e la telecamera professionale per prepararmi a delle dirette che andremo a realizzare piano piano ci sono tantissime cose da fare anche perché ancora faccio il parrucchiere abbiamo un negozio a via Massacciu con i ventitré Roma quartiere africano dove ehm faccio delle dirette e poi le condivido in vari gruppi da se parliamo argomenti di parruccheria verranno condivisi nell'ambito della parruccheria se parliamo anche abbiamo un bellissimo gruppo il gruppo Trieste del quartiere dove ci sono diecimila utenti e noi cerchiamo come intrattenimento interviste sul benessere abbiamo fatto l'intervista con Cericola con Respirazione Consapevole abbiamo fatto l'intervista con Lacchiumenti eh l'unica terapeuta eh premiata insegnita dal Presidente della Repubblica che opera eh i reghi dentro un ospedale ma qui avremo occasione di rinvitarla e eh per altre informazioni ci stiamo preparando anche con eh con delle interviste con degli scienziati con dei psicologi che ci aiuteranno in questo momento a mettersi nell'atteggiamento di uscire fuori dalla paura perché ce ne accorgiamo eh tutti i giorni ci sono persone un po' più sensibili che hanno paura a a fare tutto non solamente ad andare dal parrucchiere ma le vedo imbardate guanti cappelletto mascherina eh manca poco che si mettono i calzari di eh plastica per non inquinare l'ambiente però io spero che il nostro governo questo sia mh sensibile a ad aiutare tante persone perché io posso considerare che potrebbe essere anche un genocidio di elementi già senza soldi la gente eh sta male però mettiamoci anche a livello psicologico le persone c'è pericolo che non si riposso riprendere più come già c'eravamo tante malattie eh depressione susciti eccetera speriamo di non incentivare noi vorremmo sempre parlare in in positivo se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire mi possa eh chiamare in privato e vedremo come come parlare eh di qualche argomento scottante eh cerchiamo di non lamentarci troppo e eh e proseguire eh questo cammino che stiamo facendo speriamo di riuscirci bene eh mi sono dilungato venti minuti eh ora io me ne vado a letto perché è stata una giornata veramente veramente molto piena anche perché il negozio dobbiamo sanificare ogni cliente uno sta sempre a fare ginnastica nel senso il cliente si alza e sanifichiamo eh non si posso stare in negozio abbiamo messo delle poltrone fuori dal negozio che ci aiutano delle volte a a non sforare eh questa cosa la piattaforma eh che utilizziamo eh la stiamo utilizzando per i corsi di formazione non solamente di allungamento ma stiamo preparando con vari stilisti famosi eh che ehm sfortunatamente in tecnologia stanno in zero e eh cerchiamo di aiutare per continuare per il momento noi avremo un seminario il dodici e il tredici luglio con Duilio Torres eh vediamo un attimo i distanziamenti e speriamo di fare una diretta per far vedere anche come si possono fare dei corsi eh al chiuso con tutte le procedure che il governo eh ci ha dato eh dopo di questo io credo per il momento ah eh facciamo anche delle consulenze online private per quelle persone che necessitano di rinnovare il loro look perché dal parrucchiere se volete ehm abbiamo dei tempi un pochino un po' più stretti e delle volte una chiacchierata così eh cuore a cuore ci dà un'opportunità di decidere meglio eh quello che possiamo realizzare nell'ambito della beauty e della bellezza. Bene ricordo ehm andiamo in diretta tutti i giorni dal quartiere Trieste eh africano via Massacciuccoli ventitré i miei numeri di telefono li potrete trovare sulla rete e vi auguro buona serata a tutti e ci vediamo domani per una nuova diretta. Ciao 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 Ciao